Stamane, durante l'appuntamento settimanale con Il Fatto di Marcotti su Le Fonti TV, ho detto che non mi vaccinerò per il Covid-19. Ho motivato la mia scelta sostenendo che reputo una reazione allergica al vaccino un rischio superiore a quello appunto derivante da un mio eventuale contagio, con il virus. Insomma, detta in maniera un po' brutale, mi fa più paura il vaccino che non il Covid-19. Ebbene, mi confesso che io non avevo ancora letto le notizie pubblicate ieri da diversi quotidiani, notizie che personalmente non ho ascoltato in tv, ma probabilmente perché ascolto raramente telegiornali o, e seguo ancora meno di rado, i programmi cosiddetti di informazione sulle reti nazionali. Ritengo però importante parlare di quanto sta accadendo con la sottimministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech. E per non essere tacciato così di parzialità, ho deciso di riportarvi un articolo apparso su Repubblica. Questo aspetto, sia ben chiaro, lo ritengo importante, cioè stiamo parlando del quotidiano Repubblicano, quindi non certo di un giornale negazionista. Ripeto, la mia decisione sulla vaccinazione non dipende certo dall'aver letto questo o altri articoli, però certamente io spicherei che queste notizie vengono divulgate in maniera diffusa, cioè alla maggior parte della popolazione. I rischi non sono da sottovalutare. Ed ecco l'articolo, ripeto, apparso su Repubblica, dal titolo USA, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer. Una operatrice sanitaria statunitense, cui è stato somministrato il vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech, ha sviluppato una grave reazione allergica, ma le sue condizioni sono ora stabili. Lo riferisce il New York Times, che cita fonti sanitarie del Bartlett Regional Hospital di Juneau, se si pronuncia la francese, non so, comunque in Alaska, dove l'operatrice sanitaria lavora e dove ha ricevuto il vaccino. Il quotidiano evidenzia che il soggetto non aveva alcun precedente di allergie, ma ha sviluppato comunque una reazione allergica grave 10 minuti dopo la somministrazione del farmaco. La donna aveva ricevuto la prima dose del vaccino di Pfizer-BioNTech di fronte alle telecamere lo scorso 11 dicembre, nell'ambito della campagna governativa tesa a promuovere la fiducia nei vaccini tra i cittadini statunitensi. La donna ha sviluppato rash cutanei, tachicardia e una crisi respiratoria e le è stata somministrata epinefrina per placare i sintomi, che però si sono ripresentati e hanno costretto i medici curanti a fare anche uso di steroidi. Un ulteriore aggravamento ha costretto ad un ricovero in terapia intensiva. Fonti mediche riferiscono che la donna si sente bene e resta entusiasta del vaccino. Il caso aumenta però la preoccupazione in merito all'intensità delle reazioni avverse al vaccino, dal momento che secondo gli esperti l'infermiera ha rischiato di perdere la vita. E allora commentiamo questa notizia. La prima cosa da dire è la fonte, New York Times, altro giornale non certo negazionista, anzi potremmo senza dubbio dire che si tratta del giornale mainstream per eccellenza. Viene fatta poi una precisazione davvero molto importante, ossia che questa donna, questa operatrice sanitaria, non aveva alcun precedente di allergie. Una precisazione importante perché è noto che il vaccino della Pfizer-BioNTech può più frequentemente dare reazioni a coloro che già manifestano problemi di allergie varie. E allora sapete quanti sono numerose le persone che soffrono di allergie. O non di meno naturalmente le persone che pur avendo allergie non ne sono a conoscenza. Insomma stiamo parlando di una categoria di persone, ripeto quelle allergiche, una categoria decisamente numerosa e tutt'altro che trascurabile. Comunque questa persona, ripeto questa operatrice sanitaria, non aveva avuto alcun precedente di allergie. Da segnalare poi che la reazione al vaccino è stata quasi immediata, ossia si è avuta dieci minuti dopo la somministrazione e questo ha quindi permesso alla donna di essere immediatamente soccorsa. Ma non basta, non si può neppure rimanere così indifferenti al fatto che la somministrazione di epinefrina, tra l'altro, mi domando perché sia stato usato questo termine da tutti i giornali, questo termine che pochi conoscono, e invece non è stato usato il termine molto più conosciuto con il quale tutti noi denominiamo l'epinefrina, e cioè l'adrenalina. Comunque, dicevo, non si può neppure rimanere indifferenti al fatto che la somministrazione di adrenalina non abbia avuto praticamente alcun effetto. Quindi alla donna, che io mi rifiuto di chiamare paziente, perché prima della somministrazione del vaccino quella donna era in piena salute, quindi non era una paziente. Dicevo comunque che alla donna la somministrazione di adrenalina non è bastata. I medici sono così dovuti ricorrere agli steroidi. E anche in questo caso non serve essere medici per affermare che sarebbe bene non dover mai ricorrere a farmaci del genere, che sappiamo possono dare complicazioni assolutamente indesiderate. Ma la cosa ancora più preoccupante qual è stata? Semplicemente che tutto ciò non è bastato. Le condizioni fisiche si sono ulteriormente aggravate al punto che si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Certo, in terapia intensiva sappiamo che ci sono tante persone, sono ricoverate molte persone, ma un conto è se io finisco in terapia intensiva per aver contratto una malattia, un virus. Un altro è se io finisco in terapia intensiva perché è per essermi fatto iniettare qualcosa che doveva in teoria proteggermi da una ipotetica malattia. Vabbè, non commento poi la presunta frase attribuita a questa operatrice sanitaria, cioè che la donna ora si sente bene e resta entusiasta del vaccino. Di sicuro stava meglio prima. Voglio invece ecco sottolineare le parole con le quali si conclude l'articolo. Secondo gli esperti l'infermiera ha rischiato di perdere la vita. Chiaro a tutti, non ha rischiato di prendere un raffreddore, ha rischiato di perdere la vita. Se è chiaro a tutti io spero di sì, mi auguro di sì, e vabbè poi ognuno si comporti come meglio crede. Tuttavia non si può non sottolineare un fatto che chiaramente al momento non è accertabile, ossia le eventuali reazioni a lungo termine. Ovvio, capisco bene che la replica a questa mia così preoccupazione è se dovessimo attendere di conoscere anche le reazioni a lungo termine probabilmente arriveremo a dare l'autorizzazione e la commercializzazione del vaccino solo fra anni. Certo, ma in effetti questo è quel che è sempre accaduto. Per avere l'autorizzazione e la commercializzazione di un vaccino ci vogliono anni e in questo caso invece sono stati sufficienti pochi mesi. Quindi la domanda è d'obbligo, c'è da fidarsi. E chi è in grado di dare una risposta a questa domanda? Obiettivamente nessuno. Al momento, dato che i vaccini anti-covid sono numerosi, magari qualcuno vorrà così prima vedere quale e questi da meno problematiche, perché come tutti sappiamo non esiste un vaccino assolutamente senza effetti collaterali, anche rari. Per questo anche il nostro governo ha già stanziato una cifra che servirà ad indenizzare coloro che avranno subito danni dal vaccino covid. Ecco, io lascio volentieri questa somma a disposizione di altri. Di quei soldi veramente ne faccio volentieri a meno.